Idea Web con Alessandra Fistolo, Presidente dell'EPM per lavoro a Mondovì, giornata di impegno per la vostra società anche del mondo vicino, nuova edizione del Master Walter Turk, Memorial Walter Turco. Alessandra, una bellissima giornata di sport per tantissimi bambini, ti andrebbe di darci qualche numero di questa manifestazione? Sì, una bellissima giornata davvero che racchiude tutti i bambini e le bambine che fanno pallavolo dai circa 5-12 anni sia in tutta la provincia di Julio che la provincia di Assi. Ci sono oltre 400 partecipanti, ci sono oltre 80 squadre e più di 20 società iscritte. Infatti ci sono, mi pare, 25 campi montati qua nel parco Mondovicino che direi è una location veramente adeguata per manifestazioni così grandi, così grandi e anche così importanti per il nostro ambito pallavolistico. Ecco, una sfida anche per voi della società, organizzare, portare il tutto a Mondovicino ma il successo di pubblico e di ragazzi iscritti in qualche modo vi premia? Sì, assolutamente. Poi devo dire che anche la giornata fino ad ora ha aiutato, prima c'era il sole splendido ed è stato veramente un evento fino a questo momento davvero ben riuscito. Sì, ci premia, c'è tantissima gente, anche queste 400 bambini, voglio dire, seguiti ovviamente dai genitori, non dai fratelli e sorelle, quindi ci sono circa 1500 persone a seguito. Che in un posto così sanno cosa fare se non altro. Sanno cosa fare, credo che lo shopping o caffè, ristoranti, insomma, siano stati contenti. Grazie mille. Grazie a voi.